Dopo circa un anno di indagini è stato incastrato dai carabinieri un giovane pregiudicato albanese senza fissa dimora, autore di numerosi furti nelle abitazioni. Esegue e rinviate a data da destinarsi per l'avvocato Mimmo Farina deceduto dopo cinque mesi di coma. L'autopsia dovrà chiarire le esatte cause della morte. Non mancano le polemiche per il nuovo piano operativo della sanità illustrato dal commissario Donato Toma, un programma di ampia riorganizzazione. Domani a Rimini ci sarà il taglio del nastro della Fiera Internazionale del Turismo. Per l'occasione l'azienda autonoma Soggiorno e Turismo rappresenterà il Molise. Ben ritrovati dall'informazione di ATLT. Partiamo dalla cronaca. Identificato e consegnato alla giustizia un trentenne albanese pregiudicato e autista del gruppo di malviventi stranieri domiciliati in provincia di Napoli. Autori di numerosi furti dall'estate dello scorso anno nell'area compresa tra Trivento, Lupara e Agnone. Il trentenne albanese senza fissa dimora era abilissimo alla guida di auto di grossa cilindrata per far perdere le tracce. Insieme ai suoi complici ha creato un diffuso allarme sociale tra la popolazione del posto per i colpi a ripetizione. Ad incastrarlo le immagini delle telecamere stradali e le celle telefoniche di Trivento e Circondario. Ancora non è nota la data dei funerali di Mimmo Farin. Il cinquantenne termolese ispirato la notte scorsa a San Giovanni Rotondo dove era ricoverato per il trauma cranico riportato cinque mesi fa in un incidente stradale in via Elba nella città adriatica. Nell'impatto violento e improvviso tra la sua bicicletta e un camion parcheggiato sul ciglio dell'arteria. La procura della Repubblica di Larino ha disposto l'autopsia sulla salma dell'avvocato per chiarire le esatte cause del decesso. E ancora cronaca da termoli. Trauma cranico per due ventenni stranieri ricoverati in ospedale a Santimoteo dopo un incidente stradale avvenuto in via Duca degli Abruzzi. Probabilmente a causa della forte velocità i due giovani hanno perso il controllo della loro Citroen e sono andati a tamponare alcune auto in sosta nelle vicinanze dell'Ateneo. Le ambulanze del 118 hanno condotto in ospedale i due feriti. Cambiamo adesso argomento. Lasciamo la cronaca verso la chiusura. Il punto nascita all'ospedale di Termoli. Il reparto di emodinamica del Cardarelli sarà invece integrato con la vicina struttura del Gemelli in contrada Tappino. Nelle intenzioni del Governo regionale la riorganizzazione dell'attività preventiva e della rete ospedaliera e la medicina territoriale. La consapevolezza di aver lavorato bene e di aver prodotto un piano operativo sanitario sicuramente positivo per il Molise. Si esprime così il commissario ad acta della sanità e presidente della giunta regionale Donato Toma nella giornata della presentazione del piano in consiglio. E' stato terminato dal gruppo di lavoro che avevamo messo su il subcommissario. Ritengo che in relazione alla normativa attuale, in relazione alle linee di indirizzo che ci sono state fornite a marzo per la verità, insomma marzo 2022, dai tavoli tecnici possa essere ritenuto una buona programmazione. Chiaramente è un atto amministrativo, non è un atto politico. La politica poi bisogna farla diversamente se si ritiene di modificare le leggi attuali. E' una riorganizzazione di tutta la sanità molisana, una riorganizzazione delle reti per le malattie a tempo dipendenti che mi pare molto efficace. Viene acclarata la funzione degli ospedali Lab di Campobasso, gli Spoc di Termoli e di Sernia e la funzione di ospedale l'area eseggiata di Agnone. Più che acclarata viene sottolineata. C'è un forte riferimento, una forte programmazione sulla rete territoriale perché beneficia anche degli investimenti del PNRR. Quindi c'è l'individuazione precisa delle case di comunità con gli Hub e gli Spoc, l'individuazione precisa con i compiti a cui dovranno adempiere gli ospedali cosetti di comunità, Venafro e Larino. L'individuazione precisa delle COT, le centrali operative territoriali che coordineranno tutta l'assistenza territoriale. Il potenziamento della telemedicina che ci consentirà anche di assistere coloro i quali non possono muoversi a domicilio. C'è il riferimento a una programmazione più strutturata, istituzionale sull'autismo, ma non solo, anche sull'assistenza ai disabili. Insomma c'è molto in questo piano. Non lo abbiamo ancora adottato formalmente con un DCA perché è stato inviato ai ministeri affiancanti per la cosetta preventiva valutazione. Lo abbiamo però reso pubblico in bozza, sul sito della regione, perché tutti coloro i quali volessero prenderne visione e fare anche delle osservazioni lo potranno fare. Con il nuovo piano sanitario all'ospedale di Isernia perderebbe l'emodinamica. Il laboratorio sarà accorpato con l'hab di Campobasso, mentre nell'ospedale di Isernia verrà mantenuta solo l'unità di terapia intensiva cardiologica. Questo in sostanza, quanto previsto dal nuovo programma operativo, giungono commenti critici da parte del sindaco Piero Castrataro, che parla di un disastro annunciato. I numeri, dice il primo cittadino, l'emodinamica, il più basso tasso di mortalità per ricoveri urgenti a volumi comparabili a quelli del Santimoteo di Termoli, nonostante il servizio del veneziale sia attivo 200 giorni l'anno contro i 365 del nosocomio termolese. L'amministrazione comunale di Petrella Tifernina ha preso una importante decisione, quella di acquistare l'unica stazione di carburanti presente nel Paese, salvando in questo modo un servizio indispensabile alla collettività. Vediamo. A Petrella Tifernina esiste da anni un'unica stazione di rifornimento del carburante. In questi giorni, per colpa della situazione dei vari rincari dell'energia, il titolare ha annunciato la chiusura, comunicando agli uffici comunali la decisione e la data del 31 dicembre 2022 come ultimo giorno di servizio. Per il sindaco Alessandro Amoroso e gli altri amministratori sarebbe stato un ulteriore colpo inferto alla comunità, come scrive, una comunità già vessata dalle piaghe insidiose che caratterizzano i piccoli comuni delle aree interne. Così l'intera amministrazione ha iniziato a studiare le varie eventuali possibilità da mettere in campo per salvare la stazione di servizio. Così sindaco e consiglieri si sono attivati e trovando la piena disponibilità della famiglia Fratangelo Di Stefano, proprietaria del distributore, ha cercato di rilevare l'impianto, probabilmente unico caso in Italia. Il risultato è estremamente positivo. Infatti, nella giornata di ieri, il Consiglio Comunale di Petrella Tifernina ha approvato all'unanimità la decisione. Sono oggi 161 nuovi casi di contagio al coronavirus in Molise. A Campobasso il numero maggiore di positivi 37. 214 invece le persone guarite. All'ospedale Cardarelli si trovano 7 pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive. Numero totale di decessi da marzo 2020 e fermo a 681 unità. Aiuti economici immediati per le popolazioni molissane che risiedono nei paesi di montagna per far fronte al caro bollette di gas e luce in vista del periodo invernale. E' quanto chiede il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, con una delibera inviata alla classe politica nazionale e regionale. Domani mattina a Rimini ci sarà il taglio del nastro della Fiera del Turismo. Per l'occasione l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli rappresenterà la regione Molise. Confronti, riunioni programmatiche e degustazioni di piatti tipici, tre giorni con al centro l'offerta turistica nazionale e mondiale alla Fiera di Rimini. L'evento partirà domani e vedrà 53 operatori del settore provenienti da tutto il globo che saranno presenti negli spazi espositivi allestiti sulla riviera romagnola ad aprire la manifestazione un approfondimento sul turismo di comunità, al quale prenderanno la parola il ministro Massimo Garavaglia e Roberta Garibaldi, amministratore delegato Enit. Giovedì 13 sarà la volta invece dell'assessore regionale Vincenzo Cotugno ad interloquire nel dibattito turismo di ritorno. Oltre 200 gli appuntamenti in programma alla Fiera del Viaggio e dell'ospitalità TTG di Rimini, un comparto in netta ripresa dopo la flessione dovuta all'esplosione del Covid e oggi svincolato dalle restrizioni imposte dalla pandemia sanitaria. Gli arrivi turistici internazionali da gennaio a luglio di quest'anno sono quasi triplicati rispetto allo stesso periodo del 2021. domani stand aperti dalle ore 10 alle 18 di sera. La zona economica speciale adriatica per le realtà di Molise e Puglia è una opportunità di ripresa e partecipazione per le imprese industriali e amministrazioni locali. La Confindustria di Bari ha inteso confrontarsi sul tema annoso della burocrazia sulle agevolazioni atte allo sviluppo del territorio costiero. Tale confronto vedrà relatori, quali due presidenti delle rispettive regioni, Donato Toma e Michele Emiliano, sabato 22 ottobre, a partire dalle ore 10 nel capoluogo pugliese. L'ipoacusia è una patologia dal forte impatto sociale e sanitario. Un anziano su tre in Italia ha seri problemi di udito. Attualmente in questo tipo di disturbo è salita la prevenzione medica. Seguiamo l'intervista. C'è una buona rispondenza perché la coscienza della prevenzione comincia a essere molto sviluppata nella popolazione, in particolare per i disturbi uditivi deve essere sviluppata e dobbiamo sostenerla. Perché? Perché sentire non avere un buon udito non è semplicemente una malattia, è anche una questione di natura, nel senso che l'invecchiamento ci fa peggiorare l'udito. Il problema è che questo poi ci isola dagli affetti, dall'ambiente circostante e provoca una serie di disturbi che vanno a concludersi in un decadimento cognitivo, specialmente oltre la sesta decada di vita. Dopo la settima decada di vita, cioè dopo i 70 anni, quando ci si considera anziani, questo fenomeno è particolarmente accentuato. Una persona su tre di oltre 70 anni non ha un buon udito e comincia a scendere nella china della depressione. È difficile riuscire ad ammettere che si ha bisogno di aiuto per quanto riguarda l'udito, soprattutto ad una certa età? Non è sempre scontato, molto spesso sono i familiari che spingono le persone a venire a fare dei controlli, perché naturalmente aumentare il volume della televisione per un giovane diventa insopportabile, assolutamente insopportabile. E poi c'è la tendenza a isolarsi, non capire bene, non comprendere bene quello che si dice, crea isolamento e l'isolamento è qualcosa che va sempre a peggiorare. Ecco perché queste patologie hanno un forte impatto sociale poi alla fine. E' importante la prevenzione, a qualsiasi età naturalmente, quando ci rendiamo conto di non sentire, ma soprattutto anche quando non ce ne rendiamo conto. Qual è la portata di questo evento? Sta aiutando in questi anni ad avvicinare le persone alla prevenzione? Allora, devo dire che se guardo le persone che vengano in ospedale a curarsi, c'è un progressivo aumento, perché la coscienza sta aumentando. E poi l'età cosiddetta anziana si è molto spostata. Ormai il sessantenne è una persona attiva, una persona che partecipa alla vita sociale e quando si accorge che queste sue facoltà vengano in qualche modo ridotte dal non sentire, non capire bene le parole, viene molto più di prima a farsi controllare. Come mai si è recata qui? E' sempre bene effettuare un controllo, specialmente quando ti viene così offerto, come in questo momento, in un contesto così gradevole. Quanto è importante poter avere la possibilità di fare un controllo in piazza, gratuito? Eccezionalmente favorevole, dati i tempi che ci vorrebbero per fare una visita presso l'AS, insomma mi rendo conto che è veramente una quasi fortuna. Gli alvei del fiume Volturno e del torrente Ravindola che attraversano il territorio di Montaquila non sono sicuri. Una mozione è stata sollecitata in consiglio regionale dal centrodestra per azioni urgenti di messa in sicurezza. L'area interessata ai due corsi d'acqua è di proprietà della regione molise, ente quindi deputato ad eliminare qualsiasi pericolo per i cittadini. Tornano in Molise i controlli preventivi della mammella per le donne tra i 45 e i 49 anni. Un importante accordo tra regione e azienda sanitaria nell'ambito della campagna Nastro Rosa. Nell'ambito della campagna Nastro Rosa 2022 della Lilt, grazie ad un importante accordo tra ASREM e Regione Molise, riproposto anche quest'anno lo screening mammografico per le donne nella fascia d'età compresa tra 45 e 49 anni. Per tutto il mese di ottobre sarà possibile prenotare chiamando al call center ASREM dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 al numero verde 800 639 595 da telefono fisso oppure allo 0875 752626 da telefono cellulare. Per la prenotazione è necessario munirsi di impegnativa del medico curante con codice D03 esenzione, un codice che prevede un controllo biennale e quindi utilizzabile ad anni alterni. Un'iniziativa per supportare concretamente le donne garantendo prevenzione, esami gratuiti, informazione e assistenza. La mammografia è estesa in corrispondenza alla campagna Nastro Rosa Lilt alla fascia di età immediatamente precedente a quella inserita negli screening regionali, considerato che anche in Molise l'incidenza del tumore alla mammella colpisce sempre di più le donne giovani. L'esame mammografico in collaborazione con ASREM e Regione Molise sarà effettuato negli ospedali di Campobasso, i Sernia, Termoli e Larino. E nell'ottica di ampliare il numero di donne molisane che si sottopongono alla diagnosi precoce del tumore alla mammella è previsto un open day delle mammografie anche al Neuromed di Pozzilli, sabato 22 dalle 9 alle 16, prenotando al numero di telefono 0865 929671 e presso il Gemelli Molise, domenica 30 ottobre dalle 9 alle 16, dove oltre alla mammografia potrà essere prenotata un'ecografia mammaria, telefonando al numero 0874 312403. Tutte le prenotazioni saranno aperte fino ad esaurimento a sportello. Fondamentale dunque puntare alla diagnosi precoce e alla campagna di prevenzione che si svolge durante il mese di ottobre per dare una risposta concreta ai bisogni di salute delle donne molisane. In Italia muore un lavoratore ogni 8 ore circa, in particolare al centro, e al mezzogiorno dal 2018 al 2021 sono state oltre 4.500 le morti bianche. Quella dei decessi sul lavoro è un'emergenza senza fine. Il Molise si conferma al primo posto per i decessi sui luoghi di lavoro. Alle sue spalle troviamo le regioni Basilicata, Abruzzo, Campania, Umbria e Puglia. Il progetto denominato La magia del mare e degli alberi alla scoperta della biodiversità è stato presentato a Termoli, un progetto voluto dal Lions Club, da Ambiente Bassomolise e da altre associazioni. Gli appuntamenti formativi si terranno dal 12 ottobre, ma continueranno a cadenza fino al 22 aprile del prossimo anno. Si tratta di un progetto che prevede vari laboratori e numerose lezioni frontali sul tema della magia del mare e degli alberi, nelle zone della costa e del basso Molise, voluto dal Lions Club e da altri soggetti operativi e patrocinato dal comune di Termoli. La biodiversità parte dai ragazzi della scuola, sono loro il futuro. Il futuro è bisogno di collaboratori esterni, come prevede questo calendario di appuntamenti, è molto importante per i ragazzi, per capire che cos'è la biodiversità e per rendersi conto proprio con mano, toccare con mano, è quindi molto molto importante. Io spero che ci siano sempre questi appuntamenti, sempre di più, per poter educare i nostri ragazzi. Noi siamo sempre molto propositivi e disponibili nei confronti di chi si occupa di ambiente, perché credo che sia l'argomento del momento più importante. Dobbiamo salvare il mondo, dobbiamo salvare la terra, soprattutto quando questo viene trasferito attraverso i bambini. Chi educa un bambino educa una famiglia, perché i bambini sono i portavoce, e quindi a volte sono anche più tenaci di noi adulti, nel senso che stimolano i genitori, i fratelli, a fare quello che gli viene insegnato. Quindi io mi auguro, faccio i complimenti all'Associazione The Lions per questo evento, che ho visto che è pieno di momenti importanti, e mi auguro che si continui a fare formazione sul territorio, perché questa non è altro che formazione sul territorio, nel rispetto dell'ambiente. Abbiamo aderito con grande piacere al progetto del Lions Club Basso Molise, perché rientra perfettamente nella nostra offerta formativa, l'educazione alla biodiversità, alla tutela delle specie marine, e soprattutto abbiamo in campo un progetto d'istituto trasversale a tutti gli ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria, che riguarda proprio l'ambiente, la tutela dell'ambiente, la biodiversità, l'ecosostenibilità, che sono temi trasversali a tutte le classi e a tutti i ragazzi, sui quali la nostra scuola insiste da diverso tempo. Sabato 15 e domenica 16 tornano per l'undicesima edizione le giornate Fai d'autunno, sono oltre 700 le proposte in 350 città d'Italia, in Molise 20 a Campobasso, al Museo dei Misteri, a Petrella Tifernina visita la Chiesa di San Giorgio, e a Larino e Termoli al Museo Archivio Biblioteca Diocesana, e adesso spazio come ogni giorno al meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo. Temporali e schiarite oggi su Molise ed Abruzzo, le temperature in Molise sono comprese tra i 12 gradi la minima a Campobasso e 21 gradi la massima a Disernia, in Abruzzo tra gli 11 gradi dell'Aquila e 22 gradi di Pescara, venti moderati provenienti da nord-ovest, mosso il medio adriatico, nubi sparse con valori climatici stazionari domani sulle due regioni. T.L.T. in rete, vivi con noi le emozioni dei campionati di Serie D, eccellenza e promozione. Risultati contributi dai campi e interviste ai protagonisti. T.L.T. in rete, ogni domenica, dopo le 22, e in replica il lunedì alle 15.30. Due sconfitte a domicilio per le Molisane nella Serie C Gold di Palacanestro, maschile, l'Air Basket Termoli cede al Palasabetta contro l'Amatori Pescara, 74-58 per gli Abruzzesi, uno dei quintetti più accreditati per la vittoria finale del campionato. stessa sorte per la New Forti Dudo Isernia, che esce battuta 56-66 dal Magic Basket Chieti. Passiamo adesso al calcio interregionale, Vasto Girardi rinfrancato dalla vittoria sofferta sul Trastevere e la seconda piazza alle spalle solo dell'Avezzano. Quinto risultato utile e consecutivo per il Vasto Girardi, che in Serie D si conferma cliente ostico per tutti, anche il forte Trastevere esce a testa bassa dal Filippo Di Tella dopo una gara nervosa che i locali l'hanno indirizzata con una rete di gallo in avvio di contesa. Per il giallo-blu seconda posizione in classifica generale a quota 12 ad un sol punto dalla battistrada Avezzano nel Girone F, soddisfatto il tecnico Tommaso Coletti, ma chiede ai suoi maggiore lucidità in futuro. Ci sono tantissime cose su cui lavorare e di cui non sono contento, tipo della gestione dell'uomo in più, dobbiamo fare gol subito e dobbiamo chiudere la partita prima perché se no giustamente l'avversario resta in partita e prova a recuperare la partita. Sinceramente quando e se accadrà mi darà noia perdere dei punti con un uomo in più, quando invece con un po' di lucidità e tranquillità possiamo comunque fare altri gol. Quindi di questo non sono contento, però c'è da lavorare, alla fine abbiamo vinto, quindi siamo contentissimi. Non ci interessa la classifica perché comunque comunque si parla di questa classifica, noi non la vediamo, non ci interessa. Pensiamo da domani al Porto d'Ascoli, per ora ci godiamo questa vittoria e da domani sotto col lavoro. Nel prossimo turno l'11 Alto Molisano è atteso dalla trasferta di San Benedetto del Tronto contro il Porto d'Ascoli. Un punto dietro Ruggeri e compagni. Il Termoli muove la classifica ma deve rimandare ancora una volta la vittoria nel torneo di Serie D. La prestazione dei ragazzi di Raffaele Sposito contro la vastese è stata applaudita dal pubblico giallorosso. Mister Esposito, un bel Termoli nel primo tempo, grande intensità della sua squadra, poi siete calati un pochettino in merito anche della vastese. Ma sì, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, soprattutto i primi 30 minuti dove riuscivamo ad uscire bene palla a piede, abbiamo creato tante situazioni pericolose e siamo andati anche in vantaggio. Poi il secondo tempo non è che c'è stato un calo fisico ma c'è stato solo che è venuta fuori tutta la forza della vastese. Quando poi il mister ha messo dentro l'artiglieria presante ci hanno chiuso un po' al ridosso della nostra area di rigore ma hanno creato qualche occasione per andare a guantare il pariggio ma alla fine l'hanno trovato su un piazzato, su un corner. Tutto sommato io veramente sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Hanno dato tutto, più di così non si poteva fare. Mi dispiace solo che nonostante abbiamo fatto un secondo tempo un po' più difensivo però si poteva sfruttare meglio qualche ripartenza e dove poter far male poi e dare il colpo definitivo alla vastese. Purtroppo non ci siamo riusciti. Adesso guardiamo il punto, muoviamo la classifica e ci teniamo stretto la prestazione che hanno fatto i ragazzi. In termoli a cui manca la vittoria dopo tante giornate però come diceva lei ci sono buoni segnali. Sì, i segnali sono positivi. Io ho cambiato anche sistema di gioco quindi bisognava anche capire un po' come veniva poi preso dai ragazzi e devo dire che già durante la settimana avevo percepito qualcosa di buono. Infatti la prestazione, ripeto, è una grandissima prestazione perché i ragazzi hanno dato il cuore. Volevano regalare questa gioia ai nostri tifosi perché la gente ci teneva tanto a questa partita. Un derby sentito in città che mancava da oltre vent'anni. Purtroppo non ci siamo riusciti però, ripeto, uscire fra gli applausi dei nostri tifosi per non apprezzo. Sappiamo che comunque deve arrivare la vittoria quanto prima anche perché poi dà più morale ancora. Ancora a calcio e in chiusura il settore giovanile scolastico della FIGC Molise sta organizzando un corso informativo rivolto agli istruttori che operano nell'attività di base giovanile delle società affiliate. Il corso gratuito avrà la durata complessiva di 18 ore e si svolgerà in modalità mista con incontri online sul campo ed avrà inizio il 28 ottobre. 40 gli istruttori ammessi. Con questa notizia è tutto. Grazie per aver seguito la nostra informazione. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.